Buongiorno e benvenuto al Vice Sindaco di Teramo, Alfonso Dodo di Sabatino, che vediamo abbastanza sollevato rispetto ai problemi della ricostruzione perché il Vice Sindaco di Sabatino è stato molto critico, soprattutto nell'ultimo periodo, lo è da quando si è insediato come delegato a questo particolare aspetto della ricostruzione che è molto complesso, preoccupazione sui tempi della ricostruzione, in particolare quella privata. Ci avevamo sollevato perché viene da una riunione che si è chiusa ieri sera in tarda serata a Pescara con il Governatore D'Alfonso e altri sindaci, si muove qualcosa intanto nell'assegnazione dei fondi per la ricostruzione degli edifici pubblici o dei privati che insistono sulle pubbliche vie e intanto c'è qualcosa, anche se Teramo non rientra in questa prima tranche, ma vi rientrerà. Sì, abbiamo avuto questa importante riunione, ieri sera abbiamo terminato verso le nove e mezza, è una riunione che era finalizzata all'opprovazione del piano delle opere a Stralcio, cioè la prima tranche di contributi che verranno erogati per gli edifici pubblici. In questa prima tranche Teramo non era presente, ma come d'accordi peraltro, perché c'è un concetto anche di solidarietà nei confronti dei comuni più piccoli, che sono i 23 comuni del cratere, quindi 22 oltre Teramo, e sono ovviamente comuni che avevano più necessità in quel determinato momento. Nel secondo piano di opere a Stralcio, che dovrebbe anche questo essere dell'importo di circa 17-18 milioni di euro, noi dovremmo ovviamente individuare con delle priorità rispetto agli edifici pubblici da mettere in cantiere, sui quali ovviamente predisporre una serie di progetti per la riattivazione e per il ripristino. In quest'ottica ovviamente adesso ragioneremo con il Sindaco per dare delle indicazioni, delle priorità, perché insomma siamo stati risiedotti che avremo noi la priorità in questo secondo stralcio. Per quanto riguarda invece le opere provvisionali, c'è un'importante novità, c'è tutte le messe in sicurezza per capirci, non solo quelle relative agli edifici pubblici, ma anche quelle relativi agli edifici privati che insistono sulla pubblica via e che quindi creerebbero un danno a coloro che ovviamente sostano o transitano le vie pubbliche. Per quanto riguarda questi c'è un'importante novità, anche qui dovrebbe arrivare una tranche sostanziosa di circa 50 milioni di euro, perché sono opere che peraltro vengono sistematicamente anticipate dalle imprese che vengono individuate ad effettuare i lavori e che spesso e volentieri hanno poi difficoltà ovviamente a essere pagate. Questa importante tranche ci consentirebbe intanto di chiudere quelle che abbiamo già iniziato noi, che sono circa 2 milioni e mezzo di euro di opere provvisionali, ma ne abbiamo ancora 60 o 70 di livello anche importante. Si pensi per esempio come edifici pubblici all'edificio di via della banca, che è quello per capirci a fianco al Consiglio Comunale, che deve essere ovviamente messo in sicurezza, ma ci sono anche altre opere importanti e soprattutto perché ci sono una serie di privati che hanno ovviamente chiesto di poter usufruire di questa provvigione, anche perché, ripeto, c'è un problema di sicurezza e di ordine pubblico che deve essere ovviamente, di incolumità che deve essere ovviamente sovrinteso. Quindi insomma la riunione di ieri la giudico positiva, la giudico positiva anche perché insomma è emerso che c'è una disponibilità a voler accelerare anche sui tempi, che è stato poi il motivo principale della mia doglianza. Il Governatore ci ha assicurato che adesso, insieme all'ingegnere D'Alberto, ci sarà una fase molto più operativa e anche molto più invasiva. Noi ovviamente staremo a vedere e ce l'auguriamo perché ci sarà l'attivazione della piattaforma MUDE, che è questa piattaforma digitale che in qualche modo consente attraverso una serie di interventi telematici dei vari enti preposti che sono coinvolti nel processo di autorizzazione, di poter accelerare i tempi dell'istruttoria riducendoli in 60 più 20-80 giorni. Noi ovviamente non abbiamo retropensieri tra un mese celebreremo purtroppo una data importante che è quella della prima scossa, quella del 24 agosto dello scorso anno che distrusse la matrice, quindi i tempi, come dire, siamo ancora il caro amico però. I tempi secondo me sono ancora particolarmente dilatati, è pur vero e questo lo dico a scanso di equivoci perché insomma fare polemica sul terremoto è cosa abbastanza agevole e semplice e non mi appassiona avere un atteggiamento di questo genere che mi rendo conto da uomo delle istituzioni di dover dare un contributo e non di dover essere soltanto critico, è pur vero che le complessità dietro alla macchina e al terremoto sono enormi e quindi lo sforzo che è stato fatto per strutturare un ufficio di questa portata mi immagino sia un sforzo molto complesso. Qualcuno in Regione si è piccato del fatto che noi abbiamo detto che struttureremo un nostro ufficio sisma, ma è un obbligo di legge e lo faremo perché ovviamente abbiamo il compito di monitorare, di vigilare e di sollecitare laddove è necessario l'USR regionale ma lo faremo in un'ottica di grande colleganza e anche in ottica di grande supporto, non ci saranno motivi, ripeto, di pressione politica, ci saranno motivi di attenzione perché è chiaro che qui il ruolo del sottoscritto, il ruolo della città di Teramo è un ruolo di vigile rispetto a questa situazione che è gestita ovviamente dall'USR, ma noi non possiamo assolutamente fare sconti ad alcuno perché qui si tratta di tutelare gli interessi di una città che diversamente potrebbe vedere davvero complicata e svilita la ripresa economica, sociale ed etica. Certo è vero che se voi comunque realizzate un ufficio sisma ma poi le velocità non corrispondono c'è anche poco da fare in realtà. Anche perché ieri si è discusso in questa riunione oltre che dell'approvazione del piano dell'opera stralcio, dell'opera pubblica, della scolastica e degli edifici di culto perché sono tre blocchi distinti, si è discusso anche del disciplinare relativo alla convenzione che verrà sottoscritta e poi approvata in consiglio comunale relativa alla convenzione tra l'USR e gli uffici dei vari comuni, comuni ovviamente interessati facenti parte del cratere e abbiamo peraltro dato anche un contributo grazie all'assessore Misticoni che è sempre molto puntuale e attenta rispetto a quel disciplinare che immagino vengano recepiti così come ha detto il governatore modificati nell'ambito della convenzione e abbiamo sostanzialmente verificato che poi la mole di lavoro che c'è da fare è una mole importante perché di fatto la fase di partecipazione al processo di costruzione delle autorizzazioni paesaggistiche e anche per quello che riguarda gli eventuali titoli edificatori ovviamente deve essere fatto da parte del Comune per cui il Comune si occuperà attivamente di dare un contributo a tutta la ripartenza e a tutta la fase delle pratiche legate non solo agli edifici classificati con danno B ma poi pian piano si inizierà anche con la ricostruzione più cosiddetta lenta che è quella per gli edifici che hanno subito un danno maggiore quindi classificati D, C o E è evidente che questo ruolo va esercitato, va esercitato con forza, va esercitato con vigore, va esercitato senza, ripeto, retropensieri politici ma va esercitato con fermezza. Io chiamo dalla regia grazie a Gianluca Iazzoni qualche messaggio perché i nostri telespettatori vogliono stimolare il nostro ospite. Buongiorno a tutti, gentilissimo Dodo, sei disponibile per un incontro e parlare di igiene urbana a tutto campo, la città ha bisogno di sapere il merito. Vittorio Crocetti, spazziamo su un altro argomento, Vittorio Crocetti è un conoscitore a fondo dei numeri e dei conti. Molto approfondito, ha destinato gran parte del suo tempo libero allo studio, all'esamina dei PEF, dei consuntivi e anche gli scostamenti che sono quelli poi che si hanno dato adito a maggiore criticità. Tema attuale perché c'è il bando adesso. C'è il bando, c'è la parificazione dei debiti dei decrediti nella quale anche noi abbiamo avuto recentemente un incontro che insomma credo di giudicare senza proclami molto positivo. Immagino che il fermento, la vitalità e il movimentismo che attribuisco al Dottor Pelagatti ci aiutino in questa fase, anche al Presidente Bozzelli che è persona garbata e per bene, ci aiutino a trovare una definitiva quadra rispetto a questa che è una partita che non è più rinviabile perché prima di pensare di poter costruire un bando e occorre ovviamente fare chiarezza ai suoi conti, non è possibile che una partecipata del Comune esponga un credito in bilancio di 10 e il Comune glielo riconosca per 2, capisce bene che non è possibile o meglio non è più possibile oggi anche perché tra l'altro c'è un bando di evidenza pubblica che assegnerà finalmente le quote private e che vedrà ovviamente individuerà il nuovo partner in questa che sarà la nuova governance, la nuova gestione della Terra e quindi della Terra Ambiente. Per cui che ben vengano le iniziative del Comune di Vittorio e sono assolutamente disponibili. Crocetti lo rassicuriamo, insomma sicuramente potrai con il lavoro e parlare di questo. Ovviamente la speranza è che siano incontri scevri da condizionamenti e da retropensieri. Io con Vittorio Crocetti mi relaziono da tempo, con grande piacere perché ripeto è una persona che quantomeno instilla un ragionevole dubbio e poi è una persona che ha dimestichezza e contezza dei numeri, per cui senza alcun problema garantirò il tempo che lui mi richiede. Andiamo avanti con i messaggi, ne leggiamo qualcun altro. Buongiorno, per quanto riguarda il CAS, ricordiamo il contributo di autonoma sistemazione, è scandaloso erogarlo con molti mesi di ritardo. Ieri è stato annunciato che nei prossimi giorni verrà erogato il contributo relativo al mese di aprile. Considerato che gli affitti vanno pagati entro i primi giorni del mese, avete un arretrato di ben cinque mesi, state giocando sulla pelle dei cittadini colpiti prima dal terremoto, adesso per pagare gli affitti rischiano di andare alla Caritas. Il riferimento è anche all'intervista che l'assessore Guardiani ha fatto con noi ieri, aggiornando il pagamento al mese di aprile e ha assicurato che entro i primi di agosto dovrebbe il Comune riuscire a mettersi a pari con i mesi di maggio e di giugno. Però le difficoltà ci sono. Questo è un tema molto delicato che va trattato con altrettanta delicatezza e con altrettanto rispetto. l'assessore Guardiani ha riferito bene rispetto al pagamento, ma non so se ha anche riferito del fatto che non eravamo pronti anche per liquidare il mese di maggio. Poi ci si è derogato soltanto la tranche di aprile e per questa ragione abbiamo potuto pagare... Ecco perché chiamiamo questo, per poter pagare il Comune ha bisogno della liquidità necessaria che deve arrivare con un flusso di cassa costante... Questo mi sembra sia evidente, ieri a margine della riunione con il dottor Jovino della protezione civile abruzzese si è parlato anche di questo, si è parlato della necessità di avere una maggiore tempestività nell'erogazione delle somme, soprattutto per i comuni come il nostro, che ricordiamo eroga circa 750 mila euro al mese di contributo autonomo e sistemazione. Noi abbiamo 850 famiglie alle quali viene destinato questo contributo. Il ritardo nel pagamento non deriva da una volontà del Comune, non è che qualcuno in maniera così folcloristica e anche colorita, me lo passerà direttore, si era in qualche modo inventata l'ipotesi che noi utilizzassimo questi soldi per chiudere i debiti di altre situazioni. Insomma io gradirei che si avesse un minimo di decoro anche nell'affermare certe cose perché insomma sono di una gravità inusitata. La verità è che invece purtroppo le erogazioni del fondo rotattivo nazionale e quindi dei fondi destinati al contributo della sistemazione sono purtroppo erogazioni che vanno a rilento e questo dipende anche da una difficoltà oggettiva dell'esilazione di Cassa. E poi qui a Teramo si complica anche per il numero alto degli sfollati. Ma questo siamo riusciti miracolosamente a fare un'opera, di questo va ringraziato in asslusiva il settore sociale e marginalmente anche il settore ragioneria che poi si occupa sostanzialmente della fase finale che è la fase della liquidazione, ma preparare 800 mandati non è una cosa di poco conto, anche perché quelli non sono mandati che debbono essere oggetto di una piedilista, devono essere oggetto di un controllo, evidentemente che parliamo sempre, non ce lo dimentichiamo, ma i denari pubblici. E poi con la rivisitazione continua perché le ordinanze poi di Regno Cadegli Sgomboli sono anche queste in corso in questo momento. Leggiamo ancora dalla regia. A luce di quanto stai dicendo, resta sgomento verso coloro i quali auspicano un commissariamento della città e criticato un assessorato specifico per la ricostruzione. Già siamo in affanno, immagino cosa potrebbe accadere con un commissario. Buongiorno e buon lavoro arrivato a Gabriele Sturba. È una sottolineatura, anche questa è importante. Io credo una cosa, Gabriele è una persona intelligente, può ben capire che spesso si parla senza conoscere gli argomenti. È uno dei problemi della politica odierna. Però è spesso anche questo per quanto riguarda forse anche gli amministratori coinvolti, anche chi i personaggi pubblici intervengono su questo. Però c'è anche comunque da considerare che la difficoltà a fronte delle famiglie che affrontano questo momento delicato è anche questo da tenere e lo tenete in giusta considerazione. Non alludevo al momento delicato perché, ripeto, il problema del CAS va trattato con rispetto, riservatezza e col massimo anche del decoro. e con la sobrietà di cui un argomento di questo genere deve essere depositario. Il problema è un altro, è che spesso e volentieri purtroppo i temi, le complessità che sono dietro un problema non sono facilmente rappresentabili perché non si ha neppure il tempo per rappresentarle. Perché se io dovessi rappresentare o riferire quello che io faccio in un giorno dalle 8 e mezza, alle 1 e mezza e dalle 3 alle 6 quando rientro in comune, o quando faccio una riunione ogni giorno, mi ci vorrebbe un comunicatore dietro di me che sistematicamente riferisce in ordine a quello che ho fatto per il bilancio, quello che ho fatto per i tributi, quello che ho fatto per la ricostruzione e quello che ho fatto da vicariato di vice come sindaco. Allora, lei capisce che tutto questo non è possibile, anche perché io ritengo che poi sono tra quelli che crede che poi la gente sappia chi lavora e chi non lavora e abbia ben a mente chi è utile o chi non è utile alla pubblica amministrazione. Quindi il giudizio lo lasciamo ai terzi. È chiaro che purtroppo, spesso e volentieri, si tende con un atteggiamento giacobino a massificare e a dare una lettura della politica, una lettura quasi di inutilità. E questo è, secondo me, il mare dei nostri tempi. Assolutamente sì. Andiamo avanti con la lettura dei messaggi. Buongiorno, ma il bilancio del comune quando lo approvate? Questo è una domanda di importanti. Il bilancio del comune lo approviamo il più presto possibile. Per quanto mi riguarda avrebbe già dovuto essere approvato. Le complessità politiche, delle quali credo che tutti siano a conoscenza rispetto alla tenuta del Consiglio Comunale di questa città, ovviamente hanno reso più complessa la procedura di approvazione del bilancio. Ma questo non significa che il bilancio non vada predisposto. Ed è quello che stiamo facendo in questi giorni. Tant'è vero che abbiamo ripreso anche con una mail tutti i rapporti con i settori. Che lei sa che il bilancio è sostanzialmente un'opera di collazione di quelle sono una serie di relazioni di tutti i settori che poi confluiscono il documento unico programmazione del DUP e che poi viene approvato insieme al bilancio che è il documento contabile ma che presuppone una serie di relazioni e questo è stato già chiesto ai dirigenti di ovviamente aggiornarlo in funzione di una volontà dell'amministrazione di iniziare a predisporre in tempi rapidi tutti i documenti prodromici al bilancio. Qualche anticipazione, qualche taglio, soprattutto i tagli, la gente preoccupata come al solito dei tagli? Il bilancio non è una novità, io lo dico da anni, questo è un bilancio che se non ha avuto la giusta attenzione, non ha mai avuto il dato delle spese la giusta attenzione, nel senso che è un bilancio che è fortemente rigido e che quindi ha bisognava di una rivisitazione strutturale in tempi non sospetti. Sembra paradossale ma se si vanno a riprendere le relazioni al bilancio che io facevo nel 2010, nel 2011 per capirci, o anche nel 2009, le stesse cose che diceva allora sono ancora molto attuali oggi, questo per dire che non è che non si è compreso dove si dovesse intervenire e che per poi la funzione politica, che è la funzione di indirizzo della città e che vuole garantire i servizi ai cittadini, che ha come interesse quello di garantire i servizi ai cittadini e lo fa non per una captazio benevolenza o per un populismo o per una bassa demagogia, ma lo fa perché ritiene che la politica, a differenza di un commissariamento, abbia il compito e la vocazione di dare servizi cercando ovviamente di poterli dare finché può. Questo ovviamente comporta una sofferenza sul bilancio, perché basterebbe per esempio eliminare il trasporto scolastico, ridurre le 21 ore di assistenza ai disabili nelle scuole e chiudere il palazzetto dello sport e con queste tre banali, tra virgolette, manovre di bilancio, ma non banali sotto il profilo dell'impatto socio-economico che le stesse procurerebbero sulla collettività, noi avremmo così come taglio orizzontale lineare avremmo già un risparmio di 2 milioni di euro sulle spese, con queste tre manovre. Allora lei capisce che dirlo è cosa da salotto, molto agevole e anche molto facile, farlo significa ovviamente intestarsi una difficoltà di soggetti già che hanno grandi difficoltà da portare avanti quotidianamente, significa ovviamente creare imbarazzo a una funzione politica che invece su quel discorso aveva ovviamente voluto impostare un proprio programma elettorale e significa verosimilmente andare a cozzare anche con quelli che sono interessi legittimi, particolari di coloro che quei servizi rifluiscono. Altro che captazio benevolenzia poi, sarebbe peggio. Vediamo un altro messaggio. Buongiorno, abbiamo avviso la peggiore gestione giunta politica della storia di questa città ormai allo stremo, aspettiamo solo le vostre dimissioni, questo è un bel augurio. Beh sì, però dimentica il telespettatore che in politica esistono delle regole, esistono delle regole e le regole sono quelle che se una maggioranza non ha più i numeri qualcuno deve sfiduciarla. Mi sembra troppo semplicistico che noi dando le dimissioni, ammesso che poi questa maggioranza non ci sia perché ancora dobbiamo testarla, ammesso che questa maggioranza non ci sia, mi sembra semplicistico che l'intestazione del fallimento politico-amministrativo di questa giunta, ammesso e non concesso che sia la peggiore di tutte mai vista, debba essere generata esclusivamente da chi interprete. Noi invece vorremmo, avremmo piacere che le forze che si ritengono propositive e innovative e che ritengono di avere, come dire, gli strumenti per fare molto meglio di noi, escano alla scoperta ed abbiano quantomeno la coesione, la coerenza e la forza di mandarci a casa. Ad oggi è paradossale ma ogni volta che provano a raccogliere le firme si fa fatica a raccogliere. Mi sembra di capire, cerchiamo un assassino piuttosto che pensare ad un suicidio. Ma poi tra l'altro non vedo perché dovremmo andare a casa, noi stiamo lavorando. E la testimonianza di quello che io vi ho detto fino adesso è la testimonianza che c'è un'aggiunta che si dà da fare. Poi chi si dà da fare di più, chi di meno, ma un'aggiunta che opera, un sindaco che è attivo. Magari il vice sindaco pensa che il bilancio rischi e questo rinvio magari di portarlo dopo l'estate sicuramente adesso. Il bilancio andrà dopo l'estate per ragioni legate alla complessità della strutturazione del bilancio, non andrà dopo l'estate per ragioni legate alla complessità politica. Questo sia chiaro, perché a nessuno sfugge che se la maggioranza non c'è oggi non vedo perché ci debba essere il 15 di agosto o il 10 di settembre. Il problema invece è legato al fatto che il bilancio deve essere fatto con tutti i crismi per essere un bilancio sostenibile, approvabile e che sia il meno possibile di sofferenza. È chiaro che questo sarà difficile anche perché, ripeto, è un bilancio che quest'anno peraltro abbiamo anche dei fondi di maggiore entità, per esempio il fondo di svalutazione di crediti, l'FGDE, sui crediti di dubbi e esigibilità, quest'anno verrà appostato per 3 milioni di euro, l'anno scorso è di 1 milione e mezzo, perché c'è una normativa che prevede l'appostamento del 59% anziché del 36% dell'anno precedente sui crediti di dubbi e esigibilità. Quindi c'è una rigidità e una complessità molto maggiore rispetto all'anno scorso. E questo tende a aumentare perché c'è un discorso ormai, come più volte detto, di principio di cassa, per cui la normativa va verso l'obbligo di poter spendere ciò che si riesce a, solo so che ci riesce a incassare. E questo ovviamente determina una complessità ulteriore. Per quanto mi riguarda il bilancio va predisposto e va portato in approvazione il prima possibile. Poi, ripeto, il termine nostro è un termine ampio, noi siamo comuni terremotati, potremmo addirittura, se fosse vero quello che dice il telespettatore, se avessimo un retropensiero o una furbizia politica di basso profilo, lo dovremmo portare il 9 di novembre, perché noi fino al 10 di novembre possiamo approvarlo. Ma non è questo il senso, perché qui nessuno sta a rubare lo stipendio o a vivacchiare. Qui si sta a lavorare per il bene della città, credendoci e cercando di fare al meglio quello che uno può dare e può fare. Insomma, il Vicesinaco ci sta anticipando, ci sta preparando sicuramente ad un bilancio difficile ancora di più, non tanto per i tagli come negli anni passati di derivazione dei fondi dallo Stato centrale, ma sicuramente anche rispetto al momento che viviamo. Però, insomma, ci pare di capire che i servizi essenziali possano essere ancora salvaguardati. Per esempio abbiamo approvato, facendo un altro sacrificio, il trasporto scolastico. E io mi sono un po' lamentato del fatto che questa delibera sia arrivata prima rispetto al bilancio. Ma l'ho fatto non per chi non ritenga che il trasporto scolastico non sia importante come servizio. È evidente che sia oltremodo importante per un territorio frazionale come il nostro, per un territorio che è di enormi dimensioni, per un territorio che ha necessità di andare a prendere i piccoli, i nostri figli nelle case di chi abita più lontano e di portarlo a scuola. Questo non si discute della bontà del servizio, si discute della sostenibilità economica del servizio. Perché è un servizio che impatta in due annualità per circa 600 mila euro l'anno. E quindi approvarlo con delibera prima del bilancio vincola evidentemente 600 mila euro di spesa sul bilancio. In cui bilancio come? Quindi se è un bilancio già rigido, se è un bilancio già che ha delle complessità e ha già un fondo, credi di dubbio esigibilità a 3 milioni di euro, che ti dice in sostanza che tu 3 milioni di euro non li puoi toccare sulla tua entrata perché ce li hai destinati a questo fondo. Altri 600 li mettiamo col trasporto scolastico, lei capisce bene che il margine di manovra si schiaccia e quindi diventa un bilancio che di fatto è un bilancio quasi tecnico voglio dire, dove la discrezionalità politica in termini di scelte viene erosa. Grazie al vice sindaco di Sabatino Martina, continuiamo a seguire i tempi della ricostruzione ma con un occhio, ripeto, come dicevamo adesso a questo bilancio che ci porterà a discutere a settembre sicuramente di una stretta di cinghia ulteriore rispetto ai sacrifici fatti fino ad oggi, vedremo dove e come. Anche perché no, se posso e poi davvero chiudo, la rottamazione dei ruoli per esempio verso la quale noi abbiamo avuto una grande spinta, abbiamo messo dentro al 2000-2016 arrivando fino al 2016 che era l'anno massimo da inserire, è stato un flop sostanzialmente. Questa è dimostrazione che poi noi possiamo pensare di fare qualunque tipo di manovra sull'autore della spesa, ma poi il problema è che sono le entrate, perché le entrate ovviamente in un contesto di difficoltà languono e quindi questo poi complica maledettamente anche la costruzione della spesa. Sicuramente. Grazie allora di Sabatino Martina, grazie anche a voi telespettatori. Grazie a voi. Appuntamento con informazione ore 14 alle ore 19 con le due edizioni di J News. Restate collegati con noi perché anche la mattinata è interessante sotto il profilo della nostra programmazione. Buona giornata. Grazie a tutti.